Belli raga sono Aaron, eccoci qua in questo nuovo video vi faccio vedere le nuove mimetiche che sono uscite su zombie Il video raga l'ho pubblicato un po' tardi perchè comunque sono uscite da un po' di giorni Quindi partiamo subito Come avranno notate molti di voi se andiamo nelle mimetiche ci darà ovviamente le sfide Da completare per sbloccare queste nuove mimetiche E in più hanno aggiunto anche queste maestria che si trovano a destra come sono multiplayer Naturalmente raga per sbloccare l'oro dovrete completare prima le sfide queste prestazioni e poi queste tecniche che vi sto facendo vedere velocemente Per la diamante dovrete sbloccare l'oro per tutte le pistole come nel mio caso E poi per la dark matter dovete sbloccare la diamante per tutti i tipi di armi Adesso vi faccio vedere un po' come si vedono queste mimetiche oro Ad esempio guardate così e dopo averla pacca panciata E poi dopo che l'avete doppiamente pacca panciata Cioè dopo che gli avete aggiunto ad esempio lo squagliacervelli o l'abilità all'arma Diventerà di questo colore violetto Poi la diamante invece dopo che farete un tot di kill inizierà a cambiare colore Ed è abbastanza figo raga l'ultimo colore è veramente veramente bello Guardate che figo il colore arcobaleno che vi si muove Inoltre la dark matter raga è veramente anomala In descrizione vi metterò il link al video di smart guy in cui spiega un po' meglio come sbloccare questa dark matter E poi ha fatto anche una tabella apposita dove fa vedere un po' tutte le sfide in totale Proprio di tutte le armi Quindi se volete passateci anche se è in inglese Comunque adesso eccovi la vostra mimetica rainbow Ovvero arcobaleno guardate quanto cazzo è bella Adesso vi passo velocemente alla dark matter Che comunque veramente raga è troppo troppo bella con tutti questi spuntoni che fuoriescono Raga io come sempre vi saluto Vi ricordo di iscrivervi Lasciate un bel like Bella